Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale interviene il presidente di Ancia Siracusa Massimo Rili sulla discussione intorno al parco archeologico di Siracusa chiede al deputato Vinciullo di fermarsi e dice la sua. La perimetrazione di un parco archeologico complicato come quello che abbiamo a Siracusa richiede ben altri approcci. Una cosa è un piccolo insieme di emergenze archeologiche da recintare e presentare ai turisti, altro invece è un parco che attraversa da millenni tutto il tessuto urbano antropizzato in cui vivono più di 100.000 persone. Un parco di questa portata per funzionare e non essere solo un vincolo deve avere un progetto completo sotto ogni aspetto. A sostenerlo è il presidente di Ancia Siracusa Massimo Rili alla luce del fatto che lunedì il Consiglio regionale dei beni culturali affronta la vicenda relativa al parco archeologico della Neapolis. A Siracusa, continua così il pre-costruttori, nel dicembre del 2013 il Consiglio comunale sulla base di una puntuale istruttoria dell'architetto Navarro e dell'artimento urbanistica approvò all'unanimità una delibera con cui si chiedeva alla soprintenze regionale Maria Rita Sgarlata di rivedere radicalmente la perimetrazione del parco perché di fatto se è approvato in quel modo avrebbe messo in ginocchio l'intera comunità rendendo carta straccia il vigente piano regolatore generale e bloccando ogni intervento edilizio anche fuori dal parco per il sovvertimento di tutti gli equilibri urbanistici dell'intera città. La conseguenza fu una raffica di ricorsi che hanno chiesto di sospendere il decreto assessoriale della perimetrazione ai quali il TAR ha risposto che al momento il parco è praticamente inesistente rinviando le liti a dopo l'eventuale approvazione finale del parco. Conosciamo l'attenzione di Enzo Vinciulla ai problemi della città e allo sviluppo sostenibile dice così ancora Massimo Rili ma questa volta gli chiediamo di fermarsi dopo la campagna elettorale alle elezioni restando a sua disposizione per approfondire meglio la questione augurandogli comunque la meritata conferma. Vicenda Respubblica a Priolo lunedì le dimissioni di Rizza in Consiglio Comunale Le dimissioni di Antonello Rizza sindaco dimissionario di Priolo oltre che sospendo in virtù della legge Severino sono all'ordine del giorno del Consiglio Comunale fissato per lunedì mattina a convocare la seduta è stato il presidente Giovanni Parisi che ha inserito nell'ordine del giorno la surroga dei tre consiglieri comunali che si sono dimessi alle tra Sandro Biamonte, Giuseppe Fiducia e Pietro Carucci a cui dovrebbero subentrare Federica Limeri, Fabio Castrogiovanni e Luca Campione. Intanto nella giornata di ieri il sindaco facente funzioni Santo Gozzo ha provveduto a nominare un nuovo assessore Lisa Pastore che completa l'aggiunta in attesa dell'arrivo del commissario ad acta. L'attività del nuovo esecutivo come spiegato da Gozzo sarà limitata al mantenimento dell'ordinaria amministrazione. Rizza attende intanto fiducioso nella sua abitazione l'esito dell'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il GIP Giuseppe Tripi ha girato l'istanza agli avvocati Tommaso Tamburino e Domenico Mignosa ma anche al PM Margherita Brianese che adesso dovrà rilasciare il proprio parere. L'unico motivo ostativo, dice Tamburino, avrebbe potuto essere il pericolo della reiterazione del reato come sostenuto dal giudice nell'ordinanza ma nel momento in cui Rizza ha fatto protocollare le dimissioni da sindaco, questo pericolo cessa di esistere quindi anche la sussistenza della misura cautelare. Ma si sono dimessi anche tre consiglieri comunali del PD, noi abbiamo chiesto loro le motivazioni. Comunque vado a finire qualunque sia poi la conclusione giudiziaria di tutta questa vicenda priolo, c'è una situazione pesante, molto pesante, ci sono dei consiglieri del PD che hanno fatto una scelta. Sì, ma la scelta dei consiglieri del PD supportata dal partito a livello provinciale e a livello regionale è una scelta di natura esclusivamente politica. La valutazione giudiziaria non spetta a un partito politico, non spetta ai consiglieri comunali, spetta alle autorità competenti che avranno modo e tempo per accertare tutto quello che sembra essere successo ma deve essere ovviamente vagliato. Avete comunque dichiarato la situazione, l'aria all'interno del Consiglio Comunale si era fatto un po' troppo pesante. Sì, l'aria si era fatta decisamente pesante perché il Consiglio Comunale ormai era ingestibile perché tant'è vero mancavano pure i numeri legali in prima seduta, non c'erano più le condizioni per poter andare avanti. Ma a prescindere questo la nostra è stata una decisione per ridare dignità alla cittadinanza di Priolo perché Priolo in quest'ultimo periodo ha subito proprio una cosa che non si è vista in nessuna parte d'Italia. Cosa segue questa vostra scelta? Allora, non vi è dubbio che il nostro obiettivo principale è quello di dare nuovamente dignità al Paese e restituire la serenità che manca ormai da anni, devo dire, per quanto riguarda i nostri cittadini. È una storia tristissima del Paese di Priolo Gargallo e i primi comunque che hanno tutti gli elementi negativi sono i nostri cittadini. Noi vogliamo restituire anche dignità al ruolo istituzionale, quindi le dimissioni sono stati un atto doveroso nei confronti della cittadinanza. Ognuno ha le sue, le proprie sensibilità istituzionali. Devo dire che questa legislatura si è caratterizzata tantissimo appunto per questi rovesci giudiziari che si sono ripetuti. Non è il primo rovescio giudiziario che ricade sul sindaco e sull'amministrazione. La rubrica da spina nel fianco ci sarebbe una sorta di sistema illegale svelato dalla procura di Catania che mette insieme l'importazione di carburanti tra la Libia, Malta e la Sicilia. Ma il procuratore nazionale antimafia Roberti sostiene che vi siano anche contatti con l'Isis. L'inchiesta internazionale condotta dal procuratore di Catania Carmelo Zuccar ha portato buoni risultati fino a far scattare l'operazione Dirty Oil che ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di carburante rubato da una raffineria libica a 40 chilometri da Tripoli e destinato al mercato italiano, francese e spagnolo. Sono 50 gli indagati finiti sotto il tiro incrociato della giustizia coinvolti italiani, maltesi e libici. Un traffico, quello scoperto di milioni di tonnellate di gasolio, entrato illegalmente in Italia, che garantiva ingenti profitti. Per il traffico erano utilizzati pescherecci modificati o piccole navi cisterna, alcune delle quali arrivavano a largo di Malta per trasferire il carburante su imbarcazioni maltesi. Queste ultime trasportavano il gasolio nei porti italiani per conto della Maxcom Bunker S.P.A. attraverso il deposito costiero di Augusta che lo acquistava a prezzo ribassato fino al 60% rispetto al valore di mercato dopo averlo miscelato. Le imbarcazioni spegnevano i trasponder per essere invisibili a occhi indiscreti delle forze di polizia, ma nell'affare petrolio già da tempo si parla dei possibili riflessi della presenza della mafia nel contrabbando tra la Libia e la Sicilia. Il fatto che il greggio libico sia finito illegalmente via mare in Italia, in Turchia, a Malta e via terra in Tunisia l'hanno già dichiarato gli ispettori dell'ONU poco tempo fa, in occasione dell'ultima risoluzione. Ma la loro attività si è fermata al primo passaggio, cioè nelle raffinerie, senza però investigare se gli intermediari siano collegati ai gruppi fondamentalisti in connubio con la mafia. Il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, sostiene che ci siano due potenziali punti di contatto tra il terrorismo islamico e la mafia, o criminalità organizzata che dir si voglia, la droga e il petrolio. Alcune indagini in varie regioni italiane hanno dimostrato l'interesse delle mafie per l'oro nero. Si creano società fasulle all'estero con oggetto sociale per la commercializzazione di idrocarburi. Si accreditano, falsamente, come esportatori abituali. Vendono direttamente ai gestori di pompe di benzina a prezzi ribassati e chiudono subito dopo la società. Così si raggiungono due obiettivi, evadono l'IVA e riciclano denaro. Un giro di 2 miliardi lo scorso anno solo in Italia. Inoltre insistono i sospetti che i clan mafiosi si possano alleare con l'Isis, ipotesi verso cui i servizi segreti di Mezzomondo stanno indagando. Il ricavo dell'Isis nella vendita del petrolio venduto vicino al luogo di produzione, scrivono le fiamme gialle in un rapporto alla Direzione Nazionale Antimafia, si aggira sui 20-35 dollari al barile. Da ciò gli intermediari possono poi giungere a prezzi di vendita intorno ai 60-90 dollari. E la stima per eccesso della produzione attuale, che si attesta sui 50.000 barili quotidiani, sono un milione di euro al giorno. L'ultimo tesoro dello Stato Islamico passa per la nuova mafia che spara di meno, ma guadagna 100 volte. E ora con la droga e il petrolio. Le vandali e atti di vandalismo al Talete, al parcheggio di Ortigia, sono stati identificati e denunciati dalla Polizia Municipale, i due responsabili. Ancora una volta il sistema di videosorveglianza ha consentito di fare luce su un episodio di danneggiamento al parcheggio Talete e di identificare i responsabili. A condurre le indagini è stata la Polizia Municipale che ha denunciato due lentinesi. I fatti risalgono al 19 agosto quando i due, venuti in città per trascorrere la serata insieme ad altri amici, si sono incolonnati per rilasciare le loro auto all'interno del parcheggio Talete. Stanchi dell'attesa, sono scesi dalle rispettive macchine, si sono diretti verso l'ingresso dell'area di sosta e hanno piegato con la forza delle braccia la barra automatizzata che regola l'accesso dei mezzi. Un danno doppio per l'amministrazione perché del gesto hanno approfittato gli altri automobilisti incolonnati che oltre a non opporsi al danneggiamento hanno parcheggiato gratuitamente. Gli agenti hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e sono riusciti a risalire i responsabili dalle targhe delle loro auto filmate mentre entravano nel parcheggio. I due sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato di cose destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità. Passi avanti per l'apertura di un centro di accoglienza per migranti, donne e bambini a Belvedere ma la struttura necessita dell'adeguamento antincendio. Tutto pronto quasi per l'apertura di un nuovo centro di accoglienza per immigrati a Belvedere. Il prefetto Giuseppe Castaldo ha incontrato due giorni fa una rappresentanza del Consiglio di Circoscrizione che aveva chiesto un incontro per fare il punto della situazione per esternare al massimo rappresentante del Governo la preoccupazione dei residenti per la nascita di questa struttura in fase embrionale. Ad incontrare il prefetto sono stati il presidente della Circoscrizione Belvedere Enzo Pantano e i consiglieri Concettina Pastore, Gaetano Sarcia e Claudio Marino. Una riunione che scaturisce sia dalla specifica delibera esitata la scorsa settimana dall'intero Consiglio di Quartiere sia da un'iniziativa dei tre consiglieri. Il prefetto Castaldo ha spiegato quale sia la funzione del centro di accoglienza che dovrà nascere nell'ex Villa Mater Dei. Saranno ospitati nella struttura nascente 24 immigrati fra donne e bambini. Una comunità ristretta quindi gestita dalla Curia Arcivescovilla Retusea per mezzo dell'associazione Sant'Angela Merici. Il prefetto Castaldo ha spiegato ai rappresentanti della delegazione belvederese che alla disposizione del Ministero dell'Interno scaturisce ad accordi presi con l'Unione Europea secondo quanto concordato con l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Siracusa dovrà assumersi il carico di ospitare in tutto 400 immigrati. Fino a questo momento nei centri di accoglienza sparsi sul territorio ve ne sono 160, ma per l'apertura del centro alla Villa Mater Dei manca ancora qualche adempimento. In particolare occorre adeguare l'impianto antincendio alle norme vigenti sulla sicurezza, per cui passerà ancora del tempo prima che la struttura possa diventare operativa. Non mancano le resistenze all'apertura del centro di accoglienza. È stata depositata negli uffici della delegazione di Belvedere una petizione sottoscritta da 700 residenti che hanno espresso la loro contrarietà alla nascita della struttura. Ci trasferiamo alla Mazzarrona dove sta per partire un progetto per i bambini. Un progetto per le periferie presentato questa mattina è che parla della Mazzarrona come di un villaggio dove attivare iniziative proposte per i più giovani. Mazzarrona si parla di villaggio, di fatto lo è, c'è una comunità molto unita, ci sono dei problemi diffusi e comuni tra tutti. In particolare ci si occupa anche però dell'infanzia, di coloro che in questi quartieri poi devono svilupparsi, crescere e in questo caso anche riconoscere. Un villaggio per crescere infatti è un progetto che ha ricevuto i finanziamenti dalla fondazione con i bambini. Capofila di questa fondazione abbiamo l'associazione il centro per la salute dei bambini preseduta dal pediatra il dottore Giorgio Zamburlini e dalla società cooperativa Orsa rappresentata qui dalla dottoressa Favara. Abbiamo l'onore di ricevere la realizzazione come città di Siracusa, la realizzazione di questo progetto che garantisce un'alta qualità educativa alle famiglie con bambini la cui fascia d'età è compresa fra i 0 e i 6 anni. Le grandi periferie di solito le famiglie chiedono aiuto, comunque si rivolgono o alle parrocchie o ai consigli di quartiere. Cosa si può dare in più? Credo che si possa dare un posto, un luogo bello dove i genitori e i bambini possono stare assieme, essere messi in condizione di passare del tempo utile assieme, ricco di buone relazioni, ricco di relazioni piacevoli, con attività come sono molto dimostratamente efficaci per la crescita dei bambini, come la lettura, ascoltare la musica, giocare assieme e cose di questo tipo. Credo che queste periferie nostre abbiano bisogno di luoghi adeguati, belli, dove i genitori e i bambini possano stare assieme facendo delle cose buone assieme. Continuano intanto i lavori di ripavimentazione proprio nei pressi della Porta Marina ad Ortigia. Porta Marina alle nostre spalle, la porta d'ingresso nella zona di Ortigia arrivando qui dal Foro Italico. Sono iniziati i lavori, sono iniziati da qualche giorno e proseguiranno almeno fino a domenica i lavori di ripavimentazione di questo tratto di strada. L'amministrazione ha dato il via al ripristino di buona parte della pavimentazione, quella in cattive condizioni, non soltanto qui, è un progetto che sta riguardando tutto il centro storico e si parla di una spesa di circa 30.000 euro per l'insieme di tutti i lavori. Il problema di questa strada come di altre è quella dell'usura del tempo, ma non soltanto perché dagli uffici tecnici del Comune è arrivata anche la comunicazione che dipenda spesso dalle grandi piogge che come in altre zone di Siracusa hanno creato problemi, in questo caso ammalorando o sollevando i vecchi mattoni, i mattoni che vengono ripristinati ora attraverso quelli nuovi, in cemento, hanno la stessa forma e lo stesso aspetto proprio per non creare problemi di decoro e di continuità storica ed estetica in queste zone. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il Te Giornale si conclude e vi auguriamo un buon proseguimento di programma. Grazie a tutti.